Atto per vincere nel senso che ogni anno e questo è il settimo anno sta dando risultati importanti in termini anche di attrattività perché vediamo che tanti campioni dello sport attuale di questo momento ma anche del passato accettano ben volentieri di venire al Festival dello Sport di Trento e quindi è un percorso che con Gazzetta è ben insediato da parte del territorio trentino e che quindi sta dando questi importanti risultati. Abbiamo vinto nei sei anni passati, speriamo di vincere anche quest'anno, abbiamo un bel parterre di atleti, abbiamo cominciato bene nonostante la pioggia oggi, tanta gente agli incontri soprattutto all'incontro della Ferrari con l'Ecleque Vasserre, insomma avete una bella cerimonia d'apertura ricca di campioni, è stato un po' vernisciato con questi campioni che avevamo questa sera che poi troveremo nelle sale da domani in poi. Dopo l'esperienza di Udinese sicuramente è stata una cosa fantastica perché abbiamo raggiunto una salvezza che quando sono arrivato era sicuramente molto difficile, però come avevo detto all'Udinese sapevo che aveva dei valori importanti, lo stanno dimostrando, per adesso giro, mi aggiorno e sicuramente stare fuori non è facile, però studiamo.